Buongiorno e benvenuti amici spettatori a questa nuova rubrica informativa, io sono Jack e io sono Valentina, benvenuti E cominciamo subito dall'economia, è stato un mese davvero negativo i lavori straordinari del condominio sono stati una discreta mazzata è come se non bastasse e si è rotta la lavatrice Draghi intanto avverte Valentina, basta acquistare scarpe Veniamo agli interni E' sempre più problematica la situazione gastrointestinale Non ho digerito nulla, ieri sera c'è stata la sagra del malo, se avrò dormito in tutto tre ore Gli esperti concordano, ieri sera ha cucinato Jack Passiamo alla cronaca, nella notte è stata ritrovata sul ceglio della terrazza una calza blu in avanzato stato di usura Ancora ha sconosciuto il proprietario, chiunque l'avesse smarrita stendendo i panni può tranquillamente venire qui a ritirarla Passiamo all'ambiente Sempre più alto è il tasso di inquinamento, ormai l'aria in casa è irrespirabile E' acceso il dibattito nella comunità scientifica se siano le scarpe di Jack o proprio i suoi piedi E concludiamo con gli esteri, credo proprio che prenderò da solo un aereo e mi toglierò di culo Questa era l'ultima notizia, per oggi è davvero tutto, grazie per la vostra attenzione, arrivederci Arrivederci E in più si è rotta Dall'economia è stato un mese molto negativo Cominciamo subito dall'economia è stato un mese Dall'economia è stato una cronaca E cronaca no Sempre più problematica E' acceso il dibattito Grazie Grazie Grazie